Musica Asia malata vittima sul web, l'intervento di Mattarella, la ragazza salernitana di Sala Consilina, aveva ricevuto messaggi di odio. Il presidente commenta il video pubblicato dall'ospedale in cui suona il pianoforte. Sei bravissima, complimenti per la tua forza, scrive il capo dello Stato. Sovraffollamento e carenze, la protesta dei garanti, iniziativa di mobilitazione questa mattina davanti agli istituti di pena Campani. A Poggio Reale ci sono più di 200 detenuti che hanno bisogno di cure. L'appello dei garanti, servono misure urgenti e progetti di inclusione. Napoli, mancano i permessi. Mondadori chiude subito. Ieri sera l'entusiasmo in Galleria Umberto per l'apertura del più grande store d'Italia. Oggi l'intervento dei vigili urbani. Dai controlli sulla documentazione fornita dai gestori sono emersi ulteriori problemi amministrativi. Benevento, così Mastella riapre un altro teatro. La città ritrova il desimone. Dopo il lavoro di restauro sarà gestito dalla fondazione Benevento Città Spettacolo. Il sindaco stiamo rivoluzionando la città e propone un cambio di nome per la storica sala. Avellino verso il voto. Azione Cattolica in campo. Entra nel vivo la campagna elettorale in città. Nel pomeriggio il confronto con lega ambiente ai giovani dell'Azione Cattolica. Ecco le proposte per la nuova amministrazione. Intanto i candidati lanciano la sfida. E questi erano i nostri titoli. Buonasera, ben trovati dall'informazione regionale di 8 Channel. In apertura, in primo piano, la storia di Asia, la 14enne di Sala Consilina, malata di tumore, ricoverata al Santo Bono di Napoli, che ha ricevuto molte offese sul suo profilo social e in suo aiuto è arrivato il presidente Mattarella, che le ha lasciato un messaggio di incoraggiamento. Vediamo. Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima. Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella arriva dal presidente con il profilo Instagram ufficiale del Quirinale. L'abbraccio virtuale alla piccola Asia. La 14enne di Sala Consilina, affetta da un tumore, diventata bersaglio degli Eter. Asia, ricoverata al Santo Bono Pausili, Pondi Napoli, costretta in ospedale e si distrae sui social, dove parla anche della sua malattia. Nelle ultime ore è stata però attaccata con offese e insulti. La sua forza ha colpito tanto il presidente, che ha voluto farle sentire la sua vicinanza. Al presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità e umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno. Le parole della mamma della 14enne, che vuole ringraziare, oltre al capo dello Stato, anche i tantissimi che le hanno mostrato solidarietà. Non esiste solo del marcio, bisogna prendere esempio da Asia, che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo, non lasciandosi mai intimidire, ha detto. Leggo la storia di Asia e rabbrividisco davanti al volto più brutto e crudele dei social. I messaggi che le sono arrivati fanno ribrezzo. Lo scrive invece la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, che conclude Forza Asia continua a mostrare tutta la tua forza e la voglia di combattere. Questo lo schiaffo più grande nei confronti di chi nella vita non ha alcun rispetto. L'emergenza carcere tra suicidi e sovraffollamento. Oggi l'iniziativa di mobilitazione dei garanti dei detenuti davanti agli istituti di pena Campani. Appoggio reale, più di 200 detenuti hanno problemi psichiatrici. Vediamo. A due mesi dall'appello sui suicidi in carcere del presidente Mattarella, oggi la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali ha organizzato mobilitazioni in tutta Italia per trattare il tema della sofferenza dei detenuti e le condizioni che vivono nelle carceri. La Campania è la seconda regione in Italia per sovraffollamento. Negli istituti di pena ci sono 5.645 posti, ma i detenuti sono 7.573 e tanti di loro hanno problemi psichiatrici che andrebbero trattati in maniera diversa. Per questo i garanti hanno manifestato a Napoli davanti al carcere di Poggio Reale il garante Campano, Samuele Ciambriello, e il garante comunale, Don Tonino Palmese, rinnovano l'appello alla politica. Servono misure urgenti. Fino a quando la struttura carceraria non si adegua alla dignità della vita delle persone siamo sempre in un clima emergenziale. Emergenza per la salute, emergenza per la vita stessa ed emergenza per la dignità. Noi abbiamo bisogno di mettere qui, in questo carcere, una unità operativa semplice di salute mentale per liberarci dalla necessità del carcere, in particolare per i tossicodipendenti, per i malati di mente. Ecco, siamo qui per accendere questo fatto, soprattutto evitare quello che sta accadendo, come ha detto lei, si continua a morire di carcere e in carcere, nell'indifferenza generale. Dall'inizio dell'anno qui a Poggio Reale, tre suicidi, tre morti tra i detenuti, l'ultimo ieri Teodorico, 39 anni, tossicodipendente. Indignarsi non basta più. La terra torna a tremare nei campi Flegrei, svegliando la popolazione di prima mattina. I sismografi dell'osservatorio Vesuviano questa mattina alle 6.30 hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro tra la Solfatara e la zona di Pisciarelli ad una profondità di 2,8 chilometri. Il sisma è stato preceduto alle 6.06 da un evento tellurico di magnitudo 2.2 con epicentro nella zona del Dazio a Bagnoli, ad una profondità di 3 chilometri. Si tratta comunque di uno sciame sismico. Entrambi i terremoti più forti sono stati avvertiti dalla popolazione che è stata svegliata nel sonno, oltre che nella zona Flegrei e anche nei quartieri napoletani di Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. Dall'inizio dell'anno sono 2.933 le scosse registrate nella zona flegrea dalla Sala di Napoli dell'INGV. Non si segnalano danni. A Napoli chiusa la libreria Mondadori inaugurata appena ieri. Secondo una prima ricostruzione alla base dello stop temporaneo imposto dalla polizia locale mancherebbero alcuni documenti amministrativi. Vediamo. Per motivi tecnici oggi lo store resta momentaneamente chiuso. Questo è il cartello che dal primo pomeriggio campeggia sull'ingresso della nuova libreria Mondadori inaugurata appena ieri in Galleria Umberto I a Napoli. Questa mattina durante ulteriori controlli da parte degli agenti della polizia locale sarebbe stata evidenziata la mancanza di alcuni documenti amministrativi. E così la Mondadori della Galleria Umberto a poche ore dall'apertura del grande punto vendita di libri è rimasta chiusa. Già durante l'inaugurazione di ieri i vigili avevano fatto rimuovere il salottino allestito sui marmi dell'Ottocento. Oggi il nuovo provvedimento nonostante l'entusiasmo dei napoletani e dei turisti per la nuova inaugurazione di ieri. No, in realtà volevamo vedere proprio il luogo perché ci hanno detto che è una delle più grandi d'Europa e quindi volevamo constatarlo di persona anche perché abitiamo qui vicino. È meglio questo che un altro negozio di souvenir o un altro fast food, quindi sì, magari sì, anche perché c'è quella di Milano che è uguale ma non è uguale, quindi è l'ora di farci valere. Realmente sono molto contenta che non ci sia un altro benissimo fast food, quindi ben venga la cultura. È il momento di fermare, basta, perché Napoli è piena. Realmente un po' di cultura, anche perché è una città piena di cultura. Sicuramente i libri aiutano a capire meglio il territorio e le persone. E il mondo della cultura è lutto per la morte di Franco Di Mare, giornalista napoletano morto all'età di 68 anni. Il suo legale parla di morte ingiusta e chiede di fare chiarezza il cordoglio del ministro San Giuliano. Vediamo. Chiederemo che i responsabili della morte di Franco Di Mare siano individuati e puniti. Lo ha garantito l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, che ha ribadito la necessità di far luce sulla morte del giornalista napoletano. Deceduto ieri a Roma all'età di 68 anni, nella sua ultima intervista a Di Mare nel denunciare il silenzio della RAI, aveva annunciato di aver contratto il mesotelioma, un tumore molto aggressivo, conseguenza, secondo il giornalista, dell'amianto respirato quando era inviato di guerra. Tanti infatti sono stati teatri bellici raccontati nel corso della sua carriera, anni ricordati con commozione anche dal ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, che ha condiviso con Di Mare l'esperienza di inviato di guerra a Sarajevo. Dopo aver appreso della sua malattia io gli avevo telefonato e lui non mi aveva risposto al telefono, però mi ha fatto un bellissimo messaggio, molto toccante, dove diceva amico mio io non riesco a parlare perché il cortisone mi ha scorticato le pareti della gola e non riesco a parlare. Quindi voi capite io che cosa ho dentro, perché io con Franco Di Mare a Sarajevo ho condiviso dei momenti irripetibili, cioè con Franco ci siamo divisi un panino, una coca cola, abbiamo passato veramente momenti importanti insieme. L'amministratore delegato della RAI Roberto Sergio ha raccontato di aver sentito il giornalista 15 giorni fa e di aver risolto alcune questioni che la RAI aveva il dovere di risolvere. Vicinanza alla famiglia è stata espressa dalle più alte cariche dello Stato. Per il sindaco di Napoli la città perde un grande napoletano, i funerali si terranno lunedì alle 14 a Roma. La corsa verso l'europea a Napoli, l'europarlamentare Pier Nicola Pedicini e l'avvocato Domenico Ciruzzi hanno presentato il progetto politico promosso dal giornalista Michele Santoro. Vediamo. Agenda fitta per i partiti verso le elezioni europee a Napoli. L'europarlamentare Pier Nicola Pedicini e l'avvocato Domenico Ciruzzi hanno presentato il progetto politico promosso dal giornalista Michele Santoro. Pace, terra, dignità. Il 60% dei cittadini europei, tra questi anche gli italiani, hanno dichiarato chiaramente che vogliono un percorso di pace, vogliono trovare una via negoziale, una soluzione diplomatica alle guerre, ma il 99% dei parlamentari europei hanno espresso contrarietà a questo pensiero. Hanno votato per l'immio delle armi, hanno votato per più guerra, per un'economia di guerra che significa togliere risorse economiche, risorse umane e risorse in generale alla sanità e a tutto quello che compete, al sud in particolare. A Benevento il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli lancia la volata alla conferenza programmatica del partito Fratelli d'Italia e attacca De Luca sui fondi di sviluppo e coesione. Si lamenta dei fondi che deve avere, avrebbe dovuto spendere quelli che ha già avuto, non ne ha spesi neanche il 50%. È chiaro che è un fallimento di gestione. Poi c'è il tema di come spendere i fondi di sviluppo. Non possono essere spese per sagre, per feste e altre cose di carattere clienterale. Lui invece vuole i soldi per poi usarli per fare le fritture di pesce. E nel sanno il prossimo sabato arriverà anche il ministro degli esteri Antonio Tajani per supportare la campagna di Forza Italia. Annuncio la presenza del segretario politico nazionale di Forza Italia insieme a quella del segretario regionale del partito campano Fulvio Martuscello sabato 25 maggio, quindi sabato prossimo, alle ore 21.30 ad un appuntamento elettorale a Pugianello. Ancora allarme sicurezza a Salerno. Nella notte è stato fatto esplodere il banco mat della filiale dell'Unicredit di Parco Arbostella. I ladri hanno poi abbandonato il denaro all'arrivo della polizia. Sentiamo. Un'esplosione ha svegliato i residenti del Parco Arbostella a Salerno dove nella notte tra venerdì e sabato una banda di ladri ha fatto saltare in aria il banco mat della filiale dell'Unicredit di via Wagner seminando di chiodi a tre punte la rotatoria nelle vicinanze per mettere in difficoltà le forze dell'ordine. All'arrivo della polizia due banditi vestiti di nero e incappucciati sono fuggiti via abbandonando il denaro in strada. Poco dopo è stato messo a segno con successo invece il colpo ai danni di un negozio di articoli per il Fai D'Atee portata via la cassa da quantificare il bottino. Al via le indagini della polizia e in città cresce la preoccupazione. Bisognerebbe aumentare un po' più la sicurezza della città, incrementarla. Sale forse l'ordine vigilare meglio per stare tutti un po' più tranquilli. Purtroppo non è il problema solo di Salerno, il problema è proprio in tutta Italia sta diventando una situazione incontrollata, sicuramente da una stretta il governo si deve pure sbrigare da una stretta perché siamo veramente in una situazione difficile. Sono tutti stranieri, è una cosa assurda che ormai l'Italia invasa. In tutte le città ci sono questi episodi negativi che vanno combattuti sicuramente ma viene amministrata bene e c'è un'ottima immagine di sicurezza di Salerno. Intanto nella stessa notte malviventi in azione anche a Eboli furto in un bar tabacchi di un distributore di carburanti in località San Giovanni a pochi passi dallo svincolo dell'autostrada 2 portati via sigarette, gratta e vinci e una macchinetta per il cambio delle monete. A Benevento riapre il Teatro dei Simone dopo il lavoro di restauro sarà gestito dalla fondazione Benevento Città Spettacolo ma Stella Soddisfatto pensa anche ad un cambio di nome per la storica sala. Sentiamo. Benevento ritrova il Teatro dei Simone questa mattina a taglio del nastro per la storica sala tra piazza Reghi II e Via Lai dei Rettori un progetto di ristrutturazione realizzato grazie ai fondi PIX con interventi non solo per la sala e i giardini. A me fa molto piacere questo anche perché in questo teatro io ho studiato qua e quindi sono anche esibito qualche volta nelle attività paradidattiche venivano svolte da parte di Fratelli Scuole Cristiane e oggi ritornare qua con un compendio dopo quello che abbiamo messo in piedi e diciamo con la struttura anche rinnovata come in questo caso è veramente una cosa molto splendida di cui potranno godere i Beneventani non soltanto i Beneventani. Questo dà l'idea di come la città ormai la stiamo rivoluzionando questo è un altro impegno abbiamo realizzato e un bene della città un bene di Beneventani devono conservarlo vedete anche fuori i giardini abbiamo messo in piedi insomma è una cosa veramente molto molto bella voglio annunciare che credo non lo chiameremo Teatro De Simone cambieremo nome perché De Simone è il palazzo non è il teatro perché il teatro è il Collegio La Salle dovrei dire teatro Collegio La Salle quindi vediamo. Tra le novità della struttura che sarà affidata alla gestione della fondazione Benevento Città Spettacolo è infatti anche la realizzazione di uno spazio bar-caffetteria annesso al teatro siamo l'amministrazione che sta riaprendo tutti i teatri della città abbiamo riaperto il comunale, abbiamo riaperto il San Nicola oggi riapriamo il De Simone, un altro gioiello assoluto l'abbiamo totalmente riqualificato, ristrutturato in tutta la sua bellezza a partire dal foyer, tutti gli interni c'è una caffetteria che solo a guardarla è di una bellezza assoluta Avellino al voto, in mattinata si è presentata la lista del Partito Democratico sul fronte centrodestra Turri, Nirpini, Arimartusceglie, Alessandra Mussolini mentre l'azione cattolica avanza delle proposte concrete alla futura amministrazione vediamo Entrano nel vivo le presentazioni delle liste verso le elezioni amministrative di Avellino in mattinata il PD si è ritrovato con il commissario regionale Misiani per Antonio Gengaro, sindaco Il Partito Democratico è in campo con le sue donne, con i suoi uomini con il progetto politico di Gengaro per fare ripartire questa città per investire sulla partecipazione, sulla trasparenza sulla legalità ma anche su una ripartenza dal punto di vista economico e sociale Turri Forza Italia in diverse realtà della provincia erpina con Alessandra Mussolini e Fulvio Martuscello candidati per le europee Fratelli d'Italia è davvero minimale in provincia di Avellino vuol dire una gestione del partito surreale io ho insistito tante volte con questa signora per cercare di far candidare Giovanni D'Ercole che è un grande esponente di Fratelli d'Italia invece le rotture fra di loro hanno fatto sì che loro scegliessero il risolamento quindi noi siamo con Genovese fortemente consapevoli tra le responsabilità che avremo nel governare poi la città i giovani e la comunità era invece il tema dell'incontro di Lega Ambiente e Azione Cattolica con l'obiettivo di consegnare proposte concrete alla futura amministrazione comunale l'ambiente, la mente e il corpo come insieme possono uscire delle proposte dai giovani come queste tre dimensioni che sono importanti nella vita di ciascuno possono essere messe a servizio anche della comunità civile l'attenzione al popolo giovanile deve essere concreta e per questo oggi l'Azione Cattolica vuole lasciare un segnale un simbolo alla nostra comunità diocesana perché non c'è solo il comune di Avellino ma siamo radicati in tutti quei piccoli comuni della provincia irpina Vasta operazione della polizia in tutta Italia contro lo stoccaggio e lo smaltimento illecito di rifiuti interessate diverse province della Campania Vediamo Vasta operazione della polizia sul territorio nazionale per il contrasto all'illecito stoccaggio e smaltimento di rifiuti per accertare e sanzionare le forme di illecito nel delicato settore della tutela ambientale il blitz ha toccato 33 province in particolare il territorio della Campania in provincia di Avellino sono state denunciate 4 persone diverse violazioni del testo unico ambientale in provincia di Benevento sono state sequestrate 3 aree adibite allo smaltimento rifiuti e denunciati i rispettivi titolari per abbandono di rifiuti gestione in mancanza delle prescritte autorizzazioni in provincia di Caserta sono state 3 le aree sequestrate e denunciate 4 persone per esercizio di attività di autoriparazione in assenza di autorizzazione, inquinamento ambientale esercizio non autorizzato ad elevato impatto ambientale l'attività rientra nella costante azione di prevenzione e monitoraggio condotta dalla polizia in un settore che da decenni rappresenta una fonte di ingente illecito profitto anche per le organizzazioni criminali per porre un freno all'espansione dei cosiddetti crimini ambientali che danneggiano il territorio e mettono costantemente a rischio la salute dei cittadini e con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Michele Urciolo grazie per averci seguito una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti